E' stato archiviato il procedimento a carico dell'ex sindaco di Capodorlando Enzo Sindoni e degli imprenditori Andrea Antonio Paterniti Isabella, scaturito da un'indagine della Guardia di Finanza di Capodorlando su presunti irregolarità nella gestione dei rifiuti risalente al 2015. Dopo che la Corte di Cassazione aveva escluso i gravi indizi di colpevolezza a seguito del ricorso dei legali della difesa, il sostituto procuratore della Repubblica di Patti Alice Parialò ha chiesto al GIP del Tribunale di Patti Eugenio Aliquo di voler disporre l'archiviazione e così ha fatto il GIP. Il caso è chiuso. Era stata la Guardia di Finanza di Capodorlando nel 2018 ad avviare le indagini focalizzando l'attenzione su presunte irregolarità nelle ordinanze con le quali era stato disposto il servizio di raccolta dei rifiuti e nelle pur modeste sponsorizzazioni all'Orlandina Basket che aziende legate al gruppo Paterniti avevano effettuato. Furono indagati a suo tempo l'ex sindaco paladino Enzo Sindoni, gli imprenditori Andrea Antonio Paterniti Sabella, l'ingegnere comunale Michele Gatto e di seguito Francesco Micalizzi, Francesco Paolo Venza, Pietro Carbona e Lorella Lazzaro. A seguito delle indagini delle fiamme gialle il sostituto procuratore della Repubblica di Patti Alice Parialò aveva chiesto al GIP gli arresti domiciliari per Sindoni e due Paterniti Sabella e Gatto e per gli altri il divieto di dimora a Capodorlando. Il GIP del Tribunale di Patti il 17 marzo 2020 fu di diverso avviso ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza. A questo punto la procura di Patti presentò appello ed il Tribunale del Riesame di Messina lo accolse ma solo per Sindoni e i due Paterniti Sabella disponendo di aggravare la misura includendo anche la modalità del braccialetto elettronico. Esclusi invece gli altri indagati per i quali non sussistevano le esigenze cautelari. Si arrivò a ricorso in Cassazione presentato dagli avvocati Carmelo Chiuto e Maria Americanelli per Sindoni e dall'avvocato Francesco Pissuto per i due Paterniti Sabella rappresentati in avanti alla Suprema Corte anche dagli avvocati Giulia Buongiorno e Paola Balducci. La Cassazione ha accolto i ricorsi annullando senza rinvio e confermando quando già ribadito dal GIP di Patti. Non ci sono gravi indizi di colpevolezza valutando l'ordinanza gravemente carente e basata su argomentazioni generiche e illogiche. Non solo. La Suprema Corte ha evidenziato che non risultano peculiarità nella gestione del comune di Capodorlando, ma sono state segnalate anche per altri comuni, apparendo una frequente modalità per affrontare difficoltà concrete nel settore della raccolta dei rifiuti. Come hanno ribadito gli avvocati della difesa, la Guardia di Finanza ha parcellizzato alcuni episodi decontestualizzandoli dai fatti contestati, mentre nel caso in oggetto tutto era tracciabile e tutto si è svolto alla luce del sole.